cari amiche e cari amici benvenuti in questo video che si apre stavolta con la foto di una bella signora invece che del nostro amato tigi mi sono un po' discostato dal tema della strage di ustica ma vedrete che onnesso c'è oggi è il 7 ottobre e qualcuno di voi sicuramente si ricorderà di quel video in cui ho parlato delle simbologie e del significato biblico del numero 7 il 7 ottobre è anche il compleanno di questo signore che sicuramente conoscete tutti molto bene vi mostro adesso altre due foto si riferiscono alla bella signora con cui si è aperto questo video si chiamava anna politkovskaya era una giornalista russa abitava in una via del centro di mosca uriza lesnaia è stata uccisa con quattro colpi di pistola la sera del 7 ottobre di 17 anni fa all'ingresso del condominio dove abitava nessuno ha visto niente nemmeno i quattro agenti in borghese che la sorvegliavano 24 ore al giorno per i sette giorni della settimana sapeva che prima o poi l'avrebbero eliminata tanto che aveva già scritto due lettere per le sue due figlie che ancora erano piccole regalo di compleanno 2 agosto 1980 mentre a malta viene firmato un trattato tra italia e malta che la libia non gradiva affatto alla stazione di bologna una bomba esplode e uccide 84 persone coincidenza thomas cram l'esplosivista di carlos lo sciacallo risulta abbia pernottato la notte tra l'uno e il due agosto a bologna turista 27 giugno 1980 i voli tavia ih 8 7 0 precipita in mare 81 morti missile 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 nemmeno gli asini ci credono più chiedete uno di loro se è stato un missile con questa immagine del tg si chiude questo video appuntamento al prossimo